Voleva tornare a Roma a casa sua Pamela Mastropietro, la 18enne romana uccisa, fatta a pezzi, dopo essersi allontanata dalla comunità di recupero per tossicodipendenti di Macerata, dove era ospite. Lo avrebbe detto agli inquirenti anche l'uomo, che due giorni prima della sua morte le aveva dato dei soldi e un passaggio in città, dove la ragazza, dopo aver vagato senza meta, ha poi incontrato per caso lo spacciatore nigeriano, innocent o segale, a casa del quale è morta e il suo corpo smembrato e nascosto in due valigie, quelle ritrovate nelle campagne di Pollenza il giorno dopo, il 31 di gennaio. Per il momento il nigeriano è accusato solo di vilipendio e occultamento di cadavere, precisa la procura di Macerata, che ha iscritto nel registro degli indagati un altro uomo, un ragazzo nigeriano e pusher anche lui, da cui o segale avrebbe portato la ragazza per acquistare l'eroina che in quel momento non aveva da vendere. Per il momento è indagato solo per concorso in spaccio di droga. Dopo aver trovato quello che cercava Pamela, accompagnata sempre dal suo presunto carnefice, è entrata nella farmacia di Via Spalato, dove ha acquistato la siringa, prima di salire in casa di o segale, da dove però non è più uscita se non da cadavere. Ed emergono particolari raccapriccianti, rivelati oggi dal quotidiano Il Tempo di Roma, su come o segale, forse aiutato da un'altra persona, abbia fatto scempio del corpo di Pamela, mutilato in più parti, dissanguato. Diversi organi sono stati asportati, alcuni dei quali non sono nemmeno stati ritrovati nelle due valigie, con i resti della povera ragazza. E voleva vendicare Pamela, Luca Traini, il 28enne che sabato scorso ha sparato per le vie di macerata contro persone di colore, ferendone sei. Ora in carcere, accusato di strage, aggravata dal razzismo. Avrebbe voluto uccidere con la sua pistola Glock direttamente o segale in tribunale, ma sarebbe stato difficile, ha detto durante l'interrogatorio di convalida dell'arresto, perché troppo presidiato dalle forze dell'ordine.